Inizia un nuovo corso per il Teatro della Fortuna, cambio di giunta e quindi si inizia una nuova attività. Assessore alla cultura Lucia Tarsi prende una buona eredità dalla passata amministrazione. Sicuramente ci sono stati alcuni aspetti molto positivi della storia del teatro di questi anni, in particolare il fatto che la città ha ritrovato un ottimo rapporto con il suo teatro. Tre serate che per ogni spettacolo sono abitualmente quasi tutte esaurite, tanto che per alcuni spettacoli si dovrà anche prevedere la quarta serata. Gli abbonamenti sono ritornati ai livelli pre-pandemia, però ci tengo a sottolineare l'aspetto principale. Questo teatro in questi anni ha saputo portare a teatro i giovani. I giovani attraverso le scuole hanno fatto una formazione, una preparazione sia all'ascolto che agli spettacoli preliminari, prima degli spettacoli, e quindi sono venuti molto consapevoli, preparati, e sono usciti anche molto contenti, tanto che lo dico, lo riconosco, nel corso di questi anni molti dei nostri studenti, i nostri giovani hanno scelto come professione, proprio le professioni legate al teatro, quindi la sceneggiatura, la regia, la recitazione. Su questo anche la scuola ha avuto il suo ruolo. Sì, perché se si portano i ragazzi così, d'amblè, si portano a teatro senza spiegare niente prima, i ragazzi si annoiano, perché non hanno la consapevolezza. Invece questi percorsi di preparazione fatti dentro le scuole da professionisti del settore, anche da alcuni insegnanti molto ben preparati, hanno fatto in modo che i ragazzi arrivassero agli spettacoli con una consapevolezza diversa, hanno saputo apprezzarli, e quando ne escono sono sempre molto attenti, sono in grado di esprimere anche delle valutazioni critiche, anche di buon livello a volte, quindi questo significa che il teatro diventa uno spazio di crescita, ma anche di diffusione della cultura, perché uscendo da qui si continua a parlare dello spettacolo. Si rinnova anche il consiglio di amministrazione, a quando le nuove nomine? Per le nuove nomine bisognerà attendere ancora qualche giorno, perché sono in definizione, ma insomma, ecco, a breve avremo tutti i nomi del nuovo consiglio di amministrazione. Tramonta dopo dieci anni la gestione del teatro da parte di Katia Amati, dieci anni però che non danno un tramonto melanconico, ma è un tramonto con un risultato veramente eccezionale. Abbiamo ripercorso questi dieci anni, io non lo considero un tramonto, lo considero un passaggio di testimone, con una visione di tutte le cose che abbiamo fatto, spero, insomma, di averla data nel modo più semplice possibile, però più vicino a quello che è il linguaggio delle persone, della gente, di tutti quelli che sono stati con noi qui a teatro e che ci hanno seguito, sì, in questi dieci anni. Quello dei giovani, sapete che per noi è sempre stato l'obiettivo, quello di portare i giovani a teatro. Sentire i ragazzi che a scuola discutono dello spettacolo di prosa con gli insegnanti e tra di loro e dire no, no, io l'abbonamento lo voglio fare anche l'anno prossimo, è una soddisfazione. Parlare di cultura apre veramente le menti e questo è un lavoro al quale abbiamo tenuto veramente tanto. Tutti i settori hanno ricevuto un aumento di spettatori, anche la sinfonica che era quella che un po' faceva il fanalino di coda. Sulla sinfonica c'è un bel lavoro da fare, ne abbiamo fatto un po', abbiamo uno zoccolo duro ormai che si è consolidato e che è un punto di partenza importante e questo in qualche maniera va implementato per rendere anche questo settore accessibile a tutti e in questo caso ci sarà bisogno di un lavoro di preparazione, di ascolto, fatto prima che, insomma, se verrà fatto darà dei frutti sicuramente positivi. E cosa farà Catia Amati da domani in poi? Catia Amati ha il suo lavoro, come dico io, sempre quello vero, alla Fondazione Rossini di Pesaro e poi nella mia città darò una mano a chi me la chiede ma sarò presente come ogni cittadino che tornerà a teatro a vedere degli spettacoli belli e della buona musica. Grazie. Grazie.